Buona giornata amici da Massimo Foghetti, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV e innanzitutto vi auguro un buon 25 aprile oggi infatti è questo giorno dedicato alla liberazione, alla resistenza per quanto riguarda una festa nazionale vediamo subito qual è anche il santo del giorno perché è un santo di particolare rilievo per quanto riguarda la chiesa oggi si festeggia San Marco Evangelista San Marco forse non tutti lo sanno ma nacque a Cirene in Libia proprio quella località che l'Università di Urbino sta scavando per così riportare alla luce tutte quelle emergenze archeologiche che hanno reso questa città molto molto importante in tutto il Mediterraneo ebbene fu convertito da San Pietro di cui divenne, si può dire con una parola moderna, il segretario scrisse il suo Vangelo tra il 40 e il 60, fu ordinato vescovo e fu mandato in Egitto a predicare appunto la parola di Gesù fondò la chiesa di Alessandria, morì martirizzato, pensate, legato ad un cavallo e trascinato poi per luoghi scoscesi una condanna veramente atroce ebbene il corpo di San Marco fu ritrovato nei secoli successivi dai mercanti veneziani che lo ritrovarono appunto ad Alessandria e di qui lo portarono a Venezia dove così fu venerato come il patrono della città e le sue reliquie furono costruite in quella bellissima cattedrale che ora tutti noi oggi ammiriamo questo è San Marco Evangelista ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che dopo un avvio solleggiato questa mattina a Sufano c'è il cielo sereno dopo un avvio di giornata solleggiato nel pomeriggio è atteso un nuovo aumento della instabilità con rovesci e temporali sparsi sulle coste i venti spireranno da nord-ovest nell'interno da ovest le temperature si aggirano tra i 9 e i 17 gradi un pochino in calo rispetto alla giornata di ieri il tempo dunque si avvia ad un peggioramento però dopo nel corso degli altri giorni della settimana dovrebbe migliorare allora vediamo le apertura del resto del Carlino oggi e vediamo come l'attenzione del giornale si destra, si puntualizza su quanto sta avvenendo in Viale Alighieri ecco in Viale Alighieri a Fano il grande ingolgo in zona mare pronta alla stretta per il cantiere ebbene Viale Alighieri è da un po' che ha l'attenzione sia dei residenti le politiche dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la traccia della pista ciclabile che è stata realizzata eliminando tutti i parcheggi il che ovviamente ha destato non poche proteste ora ci si è messo anche un cantiere che ha imposto altre modifiche del traffico ed è accaduto un po' di confusione Comune e Impresa si accordano per rimpicciolire l'area occupata che ha così imposto una deviazione importante del traffico e recuperare spazio per la carreggiata ma resta comunque il nodo dei lavori in partenza anche in Viale Battisti e soprattutto anche la chiusura del sottopasso Cairoli a Lido comunque sono due situazioni che sono un po' discoste da quello che è gravita su Viale Alighieri per quanto riguarda quest'ultimo dopo il maxingorgo dei giorni scorsi si sarebbe trovata la soluzione il cantiere privato che ostruiva parzialmente la strada indietreggerà di un metro e venti a beneficio della carreggiata che diventerà così di 4 metri e 80 centimetri questa la soluzione individuata in Viale Dante Alighieri e poi un compromesso è stato trovato nel corso di una riunione che si è svolta ieri tra i rappresentanti della ditta e quelli dell'amministrazione comunale presenti gli assessori Barbara Brunori e poi Etienne Lucarelli che è delegato al turismo Barbara Brunori, lavori pubblici c'erano anche ovviamente i tecnici comunali con quelli dell'impresa privata che deve costruire una nuova palazzina al civico 81 dove appena è stato demolito l'edificio esistente insomma questi sono i problemi e poi c'è stato un altro problema ieri a causa di un improvviso acquazzone breve breve ma intenso che ha ripristinato un vecchio problema che gravitava in piazzale a Mendola al Lido acquazzone sotto passo al Lido di nuovo allagato ma come dirà qualcuno sono stati spesi tanti soldi per evitare nuovi allagamenti e questi si ripetono di nuovo ebbene è successo però che ieri è partita soltanto una sola pompa di tutto l'impianto che è stato realizzato per convogliare l'acqua piovana verso il porto canale e questo non è stato sufficiente occorre mettere in esercizio automatico anche le altre due pompe che sono state installate nel sottosuolo il disagio comunque si è risolto in breve tempo ma non sono mancate le polemiche l'impianto funziona bene ha detto l'assessore Barbara Brunori ma ovviamente ci sono anche le critiche di chi ha sempre guardato con sospetto e perplessità questo impianto come per esempio il capogruppo della Lega Gianluca Ilari e vediamo qua sul giornale le sue dichiarazioni e polemiche anche sul Festival Passaggi polemiche perché i suoi social sono apparse proprio in questi giorni dopo la notizia che ci sarà nella prossima edizione anche Lucia Annunziata le critiche apparse da coloro che guardano con sospetto la presenza di esponenti della sinistra del centro-sinistra a questo Festival presenza che secondo appunto alcune osservazioni è importante magari è maggioritaria e questo ha destato la reazione del direttore del Festival ovvero di Giovanni Belfiore Giovanni Belfiore ha detto guardate io non prendo una lira e quindi il Festival l'organizzo completamente in senso del volontariato quindi non accusate me delle scelte che vengono fatte e non è assolutamente vero che esponenti della destra non sono stati invitati ma state attenti perché se le polemiche continuano non è detto che il Festival non vada dall'altra parte quindi Fano perde una risorsa veramente importante e chi sono questi esponenti della destra che sono stati presenti al Festival nelle scorse edizioni del Festival Fanese ebbene Giovanni Belfiore le elenca in questo articolo vediamo sono Mario Giordano unico ospite a tornare per la quarta volta addirittura a Fano e di sinistra Giordano punto interrogativo Franco Cardini uno dei grandi intellettuali europei considerato da sempre riferimento dell'area di destra e di sinistra assolutamente no Pippo Inzaghi è di destra o di sinistra Nando della Chiesa anche lui Gianfranco Fini e di sinistra sono tutti ospiti che sono stati invitati quest'anno è stato invitato anche Marcello Veneziani già ospite di Passaggi del 2017 ma Marcello Veneziani che ovviamente non è di sinistra ha declinato l'invito perché aveva un altro impegno ma ce ne sono anche altri ospiti come per esempio il ministro della famiglia Eugenia Roccella la quale sarebbe venuta volentieri se non fosse che nei giorni del festival sarà all'estero ebbene quindi queste proteste queste osservazioni non sarebbero giustificate secondo il direttore del festival ma siccome si ripetono ormai da oltre una decina d'anni Giovanni Belfiori comincia a stancarsi e dice guardate insomma io non è che ho sposato Fano in tutto per tutto quindi se queste cose poi destano malcontento ebbè annulliamo il festival e andiamo da un'altra parte speriamo che questo ovviamente non accada a centropagina abbiamo invece una presa di posizione della capogruppo del Movimento 5 Stelle nella regione in regione per quanto riguarda la sanità c'è il pericolo che 50 posti letto di ortopedia non vengono assegnati a Fano come si dovrebbe perché poi c'è un vecchio trascorso ma vengono assegnati a Pesaro in modo particolare ad una società privata che intende istituire proprio nel capoluogo una clinica privata vediamo la notizia dell'acquisto da parte del gruppo romagnolo CVM della RSA CVS di Villa Fastigi a Pesaro per farne un futuro prossimo in un futuro prossimo un ospedale privato sul modello di Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola ha sollevato queste perplessità perché questo gruppo privato ovviamente punterà su ortopedia che è la specializzazione più richiesta da quelli che vanno a curarsi a Cotignola e quindi una volta che hanno una specializzazione a Pesaro ovviamente diminuiscono la mobilità passiva ma quei 50 posti di ortopedia aspettano l'ospedale di Fano una volta erano stati indirizzati nella clinica privata di Chiaruccia poi questo è tramontato comunque ora si punta a darli a restituirli all'ospedale Santa Croce ed ecco perché la capogruppo Marta Ruggeri si rivolge alla giunta regionale dicendo che quelli spettano al comune alla città di Fano un incidente stradale un'auto cappotta ferita una bambina una bambina di 10 anni che ora è ricoverata in ospedale purtroppo in condizioni serie l'incidente è avvenuto ieri intorno alle 13.15 nella strada delle camminate a causa dell'uscita di strada dell'auto gli inquirenti stanno spiegando stanno cercando di individuare le cause di questo incidente un'automobilista di Fano del 1976 con a bordo la figlia di 10 anni mentre procedeva da San Costanzo verso Fano appunto è uscito di strada e ha perso il controllo del mezzo e quindi la macchina si è ribaltata purtroppo le maggiori spese le ha fatte appunto la bimba speriamo però che la situazione si risolva e ieri a Senigallia a Senigallia diciamo così tra il confine tra il comune di Mondolfo e Senigallia c'è stato un incontro importante perché si è parlato del ponte ciclopedonale che dovrà superare il Cesano ponte ciclopedonale sul Cesano parte il Cantieri l'opera verrà realizzata il prossimo anno ieri sono stati consegnati i lavori alla ditta Desi che ha vinto l'appalto del valore di oltre 4 milioni e sono soldi che vengono dalla regione Marche tant'è che in questo incontro era presente l'assessore alle infrastrutture Francesco Balbelli insieme ai sindaci delle due località il sindaco Livetti per quanto riguarda Senigallia e poi abbiamo anche il sindaco Barbieri per quanto riguarda Mondolfo il tutto è avvenuto ieri mattina sul posto dove appunto si è formalizzata la consegna ufficiale dei lavori alla ditta che ha vinto l'appalto un'altra notizia di cronaca rubano il Bancomat per bere a scrocco sono stati denunciati è una coppia di cinquantenni del luogo il fatto è venuto a terre roveresche nei guai una coppia di cinquantenni spendevano non più di 25 euro alla volta per evitare il PIN quindi quando il Bancomat si mette appunto sul supporto senza superare una importante cifra ebbene si può prelevare senza digitare il PIN e questo dopo ripetuti ripetuti diciamo così appoggi hanno portato via abbastanza soldi hanno rubato un portafoglio e poi si sono fatti dei drink utilizzando il Bancomat hanno bevuto alla salute loro ovviamente sulla pagina di Urbino nuovi restauri per consolidare il Palazzo Nuovo un palazzo importante accanto al Palazzo Raffaello un nuovo volto per Palazzo Nuovo il fratello del Collegio Raffaello speculare a lui in piazza della Repubblica Urbino quindi siamo proprio nel cuore della città Ducale ebbene di proprietà del legato Albani è sempre stato considerato un po' secondario rispetto a Palazzo di Collegio Raffaello invece è un edificio molto importante le cure non gli sono mai mancate quello sì ma in questo vestimento nuovo va nella in questo si va nella direzione di metterlo sullo stesso piano del Palazzo vicino quindi un importante investimento per curare l'estetica della piazza più importante di Urbino giriamo la pagina ed ora parliamo un attimo del 25 aprile la festa del 25 aprile dove nacque la resistenza questa festa si celebra oggi in modo particolare a Petrelle nei pressi di Carpegna qui c'è una rievocazione speciale perché in questi luoghi si formò il distaccamento della brigata Garibaldi il 25 aprile è una data importante a Petrelle di Pian di Meleto località in campagna è raggiungibile percorrendo la strada che da Marcerata a Feltria conduce a Carpegna l'evento è aperto a tutti ed è organizzato come sempre dall'Ampi Monte Feltro inoltre oggi è possibile visitare dalle 10 alle 18 senza prenotazione il museo storico della linea gotica di Casinina a Sasso Corvaro Auditore dove il professore Giovanni Tiberi e il suo staff offriranno momenti di approfondimento sul ruolo della resistenza nello sfondamento della linea gotica un sopporto all'esercito degli aleati che sfondò questa grande linea di resistenza che aveva realizzato l'esercito nazista a Urbino invece ci sono le celebrazioni che partono con l'orchestra di strumenti a fiato che sarà di fronte al municipio alle ore 10 e poi ci sono altre località ma vediamo anche che cosa accade a Fano lo leggiamo qui sul Corriere Adriatico vediamo un attimo vediamo un attimo se troviamo la se troviamo la notizia dunque 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 la vediamo un attimo ecco la vediamo qua invece vediamo che si svolge oggi a Fano un'iniziativa che mai si ripete tutti gli anni lo vediamo che alle ore 10 e 15 ci sarà un ritrovo dei partecipanti di fronte al comune per la deposizione di una corona dall'oro sulla lapide che ricorda i partigiani che furono martirizzati che furono uccisi durante il ventennio poi si formerà un corteo che si dirigerà fino al monumento alla resistenza nei pressi della rocca malatestiana dove si deporrà un'altra corona dall'oro e infine tutti arriveranno fino al monumento ai caduti di tutte le guerre in Viale Buozzi dove ci sarà un altro momento di raccoglimento parteciperà una delegazione dell'ampi cittadina a Pergola alle 13 si svolgerà il pranzo della liberazione al centro sociale scuola domani sera alle ore 21 a Mondavio alla biblioteca di San Michele al fiume si presenterà l'incontro Marche nascita di una democrazia storie nomi e volti della libertà presentato da Luca Liusei con intervalli di storie e canti della resistenza a cura di diatonia queste un po' tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio in occasione della festa di oggi appunto una festa particolarmente importante e voglio anche segnalarvi un articolo di cronaca qui a centropagina del resto del Carlino dove si evidenzia come ci sia stato un incidente nella casa di Umberto Eco a fuoco il locale caldaia della casa di Umberto Eco ieri a Monte Cerignone si tratta di un cortocircuito i danni sono lievi però insomma c'è stato un momento di grande paura sono intervenuti i vigili del fuoco l'incidente si è verificato intorno alle 12 quando è divampato un incendio nel locale caldaia per un probabile cortocircuito la casa della famiglia Eco è un ex convento ristrutturato che un tempo ospitava una parte della sconfinata libreria di Umberto Eco morto nel 2016 lo ricordiamo all'età di 84 anni la perdita importante per la cultura di tutta l'Italia vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro vediamo che c'è stato un incontro tra il sindaco Matteo Ricci e l'autorità portuale per tutti i problemi che gravitano nel porto pesarese soprattutto l'ultimo quello dei paletti che sono stati sistemati sulla banchina e che secondo il sindaco Ricci non servono a niente perché lì non esiste un problema di sicurezza ma non è solo questo che ha un po' così inquinato leggermente i rapporti tra il comune e l'autorità c'è anche quello di piada marina che è stato rimosso dal molo di Levante e poi la guerra sull'ex consorzio agrario e ora anche la questione dei paletti comunque il sindaco non ha non ha ceduto alle sue critiche e le ha ebbene evidenziate ai suoi interlocutori e poi a Pesaro ieri c'è stato un allarme importante si credeva veramente che qualcosa di tragico fosse accaduto in realtà sembra che sia stato uno scherzo uno scherzo però non senza conseguenze perché si indaga per procurato allarme che cosa è accaduto è accaduto che è stato rinvenuto nei pressi del ponte sul foglia un biglietto appoggiato su un paio di scarpe ebbene un biglietto con la scritta ciao a tutti non voglio disturbare io senza alcun nome ovviamente solo questa frase ovviamente tutti hanno pensato ad un suicidio ad una persona che si era gettata nel fiume lasciando appunto questo biglietto ecco perché si sono mobilitate diverse forze compresi i vigili del fuoco i sub hanno scandagliato il fiume che in quel punto è profondo tre metri ma non hanno trovato nulla ecco perché si pensa ad un scherzo di cattivo gusto e si indaga per procurato allarme comunque ormai è quasi certo che si tratta di una messa in scena e quindi non ci sarebbe nulla da così da di terribile e vediamo qui in questa foto il biglietto che è stato con le scarpe che sono state lasciate sulla sponda sulla spalletta del ponte scuola Anna Franche pronto l'intervento l'assessore Pozzi a settembre affidiamo i lavori edificio attuale verrà abbattuto per lasciare il posto ad una nuova costruzione molto più bella tutta in legno il costo sarà di 3 milioni e mezzo di euro ed è finanziato con il PNRR l'assessore consumo energetico pari a zero tutti gli allunni verranno smistati durante il trasferimento nel centro sociale di Vismara e in istituti vicini ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata alla nuova scuola di Cucurano ebbene lasciamo una scuola di Pesaro e ne prendiamo una di Fano una nuova bellissima scuola che sarà realizzata con un cronoprogramma le cui tappe sono imprescindibili nuova scuola materna a Cucurano c'è il progetto ora la corsa contro il tempo l'assegnazione dei lavori deve essere fatta entro il 31 maggio poi ci sono due anni e mezzo per arrivare addirittura al collaudo ebbene costa 5 milioni 430 mila euro questa nuova scuola che sorgerà accanto alla nuovissima scuola elementare di Cucurano Carrara dove è stata costruita anche la palestra verrà dotata anche di una mensa quindi si realizzerà un campus scolastico a tutto campo un campo scolastico a tutto campo così possiamo dire cioè fornito di tutti i servizi un cronoprogramma preciso per riuscire a poi consolidare questo finanziamento che si è ottenuto allora avvio dei lavori entro il 30 giugno la nuova scuola dovrà essere terminata entro il 31 dicembre del 2025 mentre il termine ultimo per acquisire il certificato di collaudo è stato fissato al 30 giugno 2026 quindi la nuova scuola materna entrerà in funzione nell'anno scolastico 2026 2027 insomma tra due anni e mezzo a fondo pagina abbiamo il resoconto dell'assemblea dei soci della banca di credito cooperativo di Fano che si è svolta domenica scorsa all'interno del teatro della fortuna è stata l'ultima iniziativa che si svolge per il momento all'interno delle teatro in quanto il teatro da ieri è stato chiuso per poter realizzarvi i lavori di efficientamento energetico che dureranno alcuni mesi fino al prossimo autunno assemblea anticipata perché da ieri il teatro della fortuna è chiuso è stata un'assemblea veramente partecipata a cui il consiglio di amministrazione ha riferito sui dati di bilancio che hanno così espresso un utile considerevole circa 6 milioni di euro poco meno 5 milioni e 8 un risultato importante perché ottenuto in un periodo di non facile gestione a causa della crisi economica ancora in atto e poi ci sono stati dei momenti particolari per esempio sono stati dati dei riconoscimenti ai vecchi soci a coloro che hanno segnato 44 anni di anzianità tra cui anche lo stesso presidente Romualdo Rondina il quale ha segnato addirittura 30 anni di presidenza a lui una piccola medaglia d'oro come agli altri soci comunque in tutto questo periodo la banca è cresciuta parecchio da 58 dipendenti di allora si parla appunto del 1979 ai 150 attuali e poi ha aumentato il suo patrimonio da 13 a 100 milioni di euro ha aumentato anche il numero degli sportelli da 4 a 16 e ha effettuato cospicui investimenti nel recupero di villa Luticao sulle colline di Cucurano e nella ristrutturazione della sede principale dove sono stati inaugurati nuovi uffici della sede appunto di Cucurano e dove sarà realizzata sarà pronta alla fine dell'anno una sala di 200 posti che sarà messa a disposizione anche del pubblico e siamo in conclusione voglio soltanto segnalarvi quello che è avvenuto quello che avverrà anzi da domani per quanto riguarda l'ex Vittorio Vittoria Colonna sgombaro dell'ex convitto domani parte l'operazione sicurezza ed igiene e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto